Stragi di mafia, segreti, complicità. Il libro in inchiesta di Salvo Palazzolo presentato al Teatro Margherita per incontri con l'autore, la rassegna di incontri voluta dall'amministrazione comunale, ha avuto la prorompenza della voce dell'attore Gaetano Aronica, l'incisività delle domande della giornalista Ivana Baiunco, ma anche le parole dirette, concrete e mirate del procuratore generale di Palermo, Lia Sava e del presidente della commissione antimafia Claudio Fava, a rendere quella serata una serata memorabile tra quelle che segnano il percorso dei presenti. E poi l'autore del libro, Salvo Palazzolo, che ci ha riportato lì tra gli atti scritti a mano da Falcone con la sua stilografica ad inchiostro verde. Non poteva essere altrimenti, visto che il libro inchiesta di Palazzolo, giornalista e scrittore che da 30 anni racconta del fenomeno mafioso, ricostruisce con meticolosa cura, intrecci, dinamiche e relazioni, infatti, contenuti nelle sentenze definitive, che hanno condannato i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano al primo maxiprocesso e poi nei processi celebrati a Caltanissetta per le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e a Firenze per le bombe del 93. È fondamentale ricordare, ma ricordare non per chiudere una stagione, ma per fare il punto sulle cose che ancora non sappiamo. La magistratura di Caltanissetta ha fatto un lavoro straordinario, abbiamo nuovi elementi di verità, ma nelle stesse sentenze, nelle stesse indagini dei magistrati ci sono una serie di indicazioni. La ricerca della verità non è soltanto affare di magistrati e giornalisti, credo che sia un impegno di tutti e un messaggio da dare è quello per esempio di chiedere l'apertura di tutti gli archivi di Stato. Sicuramente l'Agenda Rossa di Borsellino o il Diario di Falcone non erano nelle celle di Rina e Provenzano, non sappiamo dove sono. È necessario che questo paese faccia luce su una stagione importantissima. Il palazzolo si è rivolto agli studenti presenti tra il pubblico, a loro ha detto di richiedere gli atti, di ricercare la verità su tante, troppe domande, ancora senza risposta dopo 30 anni. Sicuramente dopo 30 anni il percorso della ricerca delle responsabilità ha fatto tanti passi avanti, ormai ci sono sentenze passate in cosa giudicata, sia per Capaci che per Via D'Amelio. Sicuramente lo Stato è stato capace anche di fare dei passi indietro nel momento in cui con le dichiarazioni di Gaspar e Spatuzza ci sono state le revisioni con riferimento al processo Borsellino. Quindi un percorso che è stato sicuramente analitico e che non è ancora terminato, visto che, come ho detto più volte, la ricerca della verità a 360 gradi non si ferma.